Benvenuti nel mondo degli orologi diesel. Diesel, il celebre marchio italiano di abbigliamento e accessori fondato nel 1978 da Renzo Rosso, è diventato noto negli anni 90 per il suo stile urbano e industriale, caratterizzato da un forte focus sul denim e sulle giacche in pelle. Tra i suoi prodotti, gli orologi diesel si distinguono per il loro design innovativo e audace, caratterizzato da cinturini in pelle o in metallo, quadranti grandi e dettagli unici come l'uso di viti a vista e la combinazione di colori insoliti. Diesel offre una vasta gamma di orologi, dalla linea casual ai modelli più sofisticati e formali, in grado di soddisfare ogni gusto e stile. Gli orologi diesel sono dotati di numerose funzioni, tra cui cronografi, datari, indicazioni, diffuso orario e impermeabilità, che li rendono adatti a diverse occasioni e attività. La qualità e la durata degli orologi diesel sono apprezzate dagli appassionati di orologeria in tutto il mondo, grazie all'utilizzo di movimenti al quarzo giapponese o svizzero, materiali di alta qualità e attenzione ai dettagli. Per gli amanti della moda e dello stile, gli orologi diesel rappresentano un'ottima scelta grazie alla loro estetica innovativa e audace, che si adatta perfettamente a qualsiasi look. L'ampia gamma di colori, materiali e stili disponibili garantisce una scelta adatta ad ogni personalità e occasione. Gli orologi diesel sono anche dotati di funzioni utili per la vita di tutti i giorni, come la possibilità di impostare più fusi orari, monitorare il tempo trascorso o la data, e resistere all'acqua. Questi elementi rendono gli orologi diesel una scelta versatile per chi vuole un orologio che possa adattarsi alle diverse esigenze della vita moderna. Per concludere, gli orologi diesel rappresentano una scelta eccellente per chi cerca un orologio di alta qualità, innovativo e accessibile. Grazie alla vasta gamma di modelli disponibili, questi orologi si adattano perfettamente a qualsiasi gusto e stile, offrendo un'ampia scelta per le diverse occasioni. Grazie a tutti.